Oggi ricorrono i 150 anni dalla nascita della Società Nazionale di Salvamento. Cristian Di Santo, un grande traguardo, ma quella di oggi è anche l'occasione per presentare quello che farete nella prossima estate. Assolutamente sì, è un augurio particolare alla nostra salvamento che oggi festeggia i suoi 150 anni di vita, addirittura riuscita a plasmarsi e a sorpassare addirittura due guerre mondiali. E oggi per ringraziare e per augurare un forte augurio alla nostra salvamento si siamo attivati con l'Associazione Lari, l'Associazione Radio Amatori Italiani, dove ci collegheremo in tutto il mondo, addirittura Giappone, America e altri parti del mondo, per dare gli auguri di questo evento dei 150 anni da salvamento. Tutti coloro che risponderanno al nostro messaggio, ed ora lo vedremo fare live dai nostri professionisti, si riceveranno questa fantastica cartolina, questa è grande, poi sarà una cartolina molto più piccola, dove sarà raffigurata la nostra pescara e i loghi della salvamento per questo evento. Ho un'occasione da non perdere, quella per festeggiare i 150 anni della storica società salvamento. Noi siamo al loro fianco, cerchiamo di essere il loro punto di riferimento, avendo un'organizzazione SAR sul territorio di tutte e due le regioni, Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, abbastanza estesa e ramificata. Quindi cerchiamo con loro di collaborare a 360 gradi e con la stagione balnearia iniziata dal 1 giugno. Il tempo favorevole aiuta le attività ovviamente sia di portistiche che balneari e noi siamo presenti con le nostre pattuglie, mezzi navali e mezzi aerei per farla svolgere nel miglior modo possibile. Oggi facciamo gli auguri alla Società Nazionale di Salvamento e siamo qui a fianco all'associazione proprio per testimoniare la vicinanza del comune a chi opera per la salvaguardia delle vite in mare, per chi è sempre a disposizione per migliorare la qualità del servizio a mare, per chi si offre in uno spirito di solidarietà per tutte le esigenze della comunità. Noi siamo molto legati a queste associazioni, in particolare alla Società Nazionale di Salvamento che su Pescara svolge un servizio eccezionale che garantisce la tutela a mare di tutti i bagnanti. La stagione è iniziata nel migliore dei modi, abbiamo la bandiera blu, il mare tutto pulito, si presenta veramente una stagione meravigliosa, al di là di ogni più rosa e aspettativa. Oggi anche i contagi sono scesi, siamo la città che ha meno contagi in Italia, oramai da quasi due mesi, quindi le prospettive sono tutte quante positive e ci auguriamo che poi il bilancio sia altrettanto positivo.